Tre date da assegnare in agenda, musei aperti e gratuiti in Sicilia, non solo la prima domenica di ogni mese, ma anche in ulteriori tre giorni festivi del 2023. Il 25 aprile per la festa della Liberazione, il 2 giugno per la festa della Repubblica e il 4 novembre per la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Lo ha stabilito l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'Unità Siciliana in linea con le disposizioni del Ministero della Cultura. Una decisione dell'Assessorato in linea con le disposizioni del Ministero della Cultura è fortemente sostenuta dal Presidente della Regione Siciliana. Nelle stesse date sarà possibile accedere gratuitamente anche ai 14 parchi archeologici presenti in Sicilia. Valle dei Templi è da Grigento Segesta, Selinunte, Cavi di Cusa e Pantelleria, Elilibeo, Marsala nel Trapanese, Naxos e Taormina, il Parco delle Isole Olie che si sviluppa tra Lipari, Panarea, Filiculi e Salina e Tindari nel Messinese, Siracusa e Loro, Villa del Tellaro e Acrai e Leontinoi e Megara nel Siracusano, Catania e Valle dell'Aci, Morgantina e Villa Romana del Casale, nell'Ennese, Imera, Solunto e Lato nel Palermitano, Camarina e Cavi di Ispica, nel Ragusano e il Parco archeologico di Gela nel Nisseno. Non si pagherà il biglietto d'ingresso anche in altri luoghi della cultura regionali, dalla Galleria di Palazzo Abbatellis al Museo archeologico Antonio Salinas e al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Palermo, passando al Museo di Trapani, Agostino Pepoli, sino alla Galleria di Palazzo Bellomo a Siracusa e al Museo Interdisciplinare di Messina.